Musica Come dicevo prima ai vostri colleghi, era la prima partita che giocavamo all'uscita quindi era giusto dare a tutti la possibilità di questa passarella dare la possibilità al pubblico di conoscere questi giocatori e tutti questi volti nuovi che ci sono quindi mi sembrava giusto questo ho fatto un po' di cambi apposta perché era anche l'ultima possibilità che c'era di fare degli esperimenti poi gli esperimenti chiaramente si faranno anche durante la settimana negli allenamenti però in una partita amichevole così oggi ho pensato di provare e di studiare altre nuove soluzioni Per esempio in primo tempo un vecchio modo visto che mancava Ginestra Sì, Ginestra mancava, l'ho detto qualcuno non lo sa ieri ha preso un colpo a una coscia dove ha interrotto l'allenamento mi ero messo anche un po' paura invece poi dopo sembra meno grave del previsto però per sicurezza rischiarlo che magari poteva prendere lo stesso colpo nello stesso punto come spesso capita quando c'è male da una parte ti colpiscono sempre in quel posto quindi ha fatto un po' di allenamento ma penso dai prossimi giorni non ci sono problemi Crescente c'è un leggero fastidio muscolare anche lui l'abbiamo tenuto a riposo sera di campionato magari avremmo potuto anche rischiare di impiegarlo ma è stupido adesso in questo momento della preparazione rischiare l'infortunio che poi ne compromette tutto il periodo